Allora amico NOS! E' n'estate cos? Allora partenza ore 8 e 15 arriviamo sull'isola di Bizz, Derry Bizz dopo due ore di aereo Due ore e due minuti E c'è sempre lì a precisà il nostro nio Allora una volta arrivati andiamo all'albergo che praticamente ci ha prenotato il nostro caro amico Paco a Sant'Antonio Sant'Antonio Abbate, vicini i scafati E tu non volevi un'idea che Sant'Antonio Abbate vicini i scafati nel Sant'Antonio e Bizz Allora andiamo all'hotel che ancora dobbiamo prenotare e poi usiamo le valigie e andiamo Ma già facciamo la crocs Sarà un meno la crocs anche il nuovo amadino? Vabbè c'è ma questa ricerca? Allora prendiamo i motorini e andiamo E io ambirei a fare qualche escursione in qualche parco naturale, paesaggistico, bello Vabbè c'è uno turista di Sussuza No signor, vabbè facciamo la bassa, vabbè facciamo la bassa e poi facciamo la alta Ci potremmo fare prima la alta e poi la bassa Ma non è che stai in coppa montagnica, tu stai a cala alta, scendendo, scendendo, trovo comodo, scendendo a cala basse Cala basse e cala basse, hanno un po' si spiano, paesaggistico, paesaggistico, allora Poi dopo andiamo in spiaggia e dopo la spiaggia andiamo a mangiare Dopo mangiato... Ma hai già fatto Black Coffee? Eh, non ci sta sempre con il caffialoppo mangiato, paesaggistico, ma che stai dicendo, paesaggistico, paesaggistico Non ci vuoi? Immaggia scucciata, dimmi la calabria a tu mamma Vengo con te, mi hanno sempre piaciuto il bliff No 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 No